LIC! Ben ritrovati in cari avventori dell'Uisona Bar Calcio. Oggi dovrebbe essere la giornata X o Y o Z. Staremo a vedere a seconda o no di quello che avverrà. Decideremo quale lettera dell'alfabeto voler selezionare. Avviso ai naviganti, si parla delle stesse cose, quindi chi non è interessato può andare a visionare video di altri creatus. Bene, detto questo, allora parliamo di Tiago Motta, facciamo le ultime riflessioni prima di conoscere la verità che ci hanno raccontato poter essere oggi, poter essere più verosimilmente domani. Perché dico più verosimilmente domani? Perché mi aggrappo a quanto ha detto Tiago Motta nella intervista post partita contro la Juve, dove dice che adesso si vuole godere questo momento fino all'ultimo. E io la intendo anche quasi come un patto che c'è stato con la società stessa al fine di salvaguardare la felicità e la gioia che è giusto che vi sia e che permanga qui nel territorio felsini. Dunque io penso, credo, che prima della parata di questa sera, perché sappiamo tutti che mi pare dalle 19.30 partirà il pullman dallo stadio per poi arrivare in piazza maggiore facendo appunto varie tappe lungo la città, tappe che potete trovare facilmente e comodamente con una facile navigazione su Google. Ok, io non penso e non credo, a meno che non sia una comunicazione sfavillante e che possa aumentarne la festa, non credo che vi sarà oggi alcuna comunicazione riguardo il futuro di Tiago Motta. Anche perché basti pensare che senso avrebbe dare a poche ore dalla parata di festa della Champions League l'annuncio che Tiago Motta non sarà lui a guidare tale squadra il prossimo anno, nessuna. Viceversa, se dovesse essere invece il contrario di quello che ormai noi stiamo maturando da giorni, cioè che Tiago Motta possa permanere, allora ha maggior ragione verrà data oggi. Quindi oggi è un po' la cartina tornasole di quello che accadrà, secondo me. Se sarà positivo per noi forse ci sarà l'annuncio, anzi forse senza il forse, ci sarà negativo. Io dico l'annuncio verrà protratto e vi dirò di più. Si è sempre detto non viene dato perché c'è ancora in ballo la posizione finale della classifica, terzo, quarto, quinto posto fa tanta differenza soprattutto a livello economico ed è vero, sono d'accordo. Però allora qualcuno mi deve venire a spiegare che senso avrebbe eventualmente dare domani l'annuncio che Tiago Motta non permarrà. Ci abbiamo ancora in Genova, ci abbiamo ancora in balli il terzo, quarto, quinto posto, allora ci siamo raccontati delle fandonie prima. Perché allora prima dell'ultima si può, prima della penultima non si può. C'è qualche quadra che non cosa direbbe qualcuno di molto erudito. Quindi non è neanche escluso secondo me che tale comunicazione possa essere data venerdì, anche perché, perdonatemi, che senso avrebbe darla eventualmente domani, quando si potrebbe attendere un giorno in più dopo la partita di Genova, che a questo punto verrebbe anche i malpensanti pensare che no, visto che si sia fatta giocare di venerdì questa partita del Bologna per poter appunto liberare tale annuncio per tutti che sia una sorta di liberazione. Io dico prima di venerdì sera non sapremo, a meno che non sia esito positivo. Allora oggi sapremo, quindi oggi capiremo se sì o se no. Basta usare un minimo di logica. Detto questo, bisogna anche dire che, a meno io parlo per me. Poi, ovviamente io sono qua, ho fatto questa scelta di accompagnare sul canale i miei pensieri, condividerli con voi, e quindi quello che io faccio trasparire su questo canale ovviamente sono i miei pensieri personali, che poi molti di voi abbracciano, molti di voi non abbracciano come è giusto che siano, ognuno di noi deve avere la propria opinione. La mia opinione è che in questo momento sono pervaso da tante emozioni, ma che poi alla fine, mi sto rendendo conto, si stiano annullando l'un con l'altra, nel senso, ho giocato la partita della permanenza di Tiago Motta, della dipartita di Tiago Motta, ho giocato ogni singolo evento talmente tante volte nella mia testa, che ormai penso che quando arriverà l'annuncio sarò quasi anestetizzato, ok? Soprattutto se l'annuncio dovesse essere ovviamente d'esito negativo, perché se dovesse essere d'esito positivo, obiettivamente potrei anche zippare, però se sarà d'esito negativo, l'ho giocata talmente tanto questa partita mentalmente, che ormai quando si parla tanto di una cosa, sfinimento, anche quando ti si dice che non accadrà, oppure che comunque come in questo caso, che è plausibile perché se ne parla ormai da febbraio, tu ormai sei pronto a tale evenienza, quindi l'accoglieremo quasi come in fondo lo sapevamo, e l'abbiamo sempre saputo, anche perché riavvolgendo il nastro, già a giugno e luglio del 2023, c'erano segnali che Tiago Motta permanesse a Bologna, in virtù del contratto da rispettare e che si era firmato, e quindi da uomo d'onore, ma non che vi fosse la reale volontà di rimanere, perché sembravano ci fossero quei contrasti con la dirigenza già all'epoca, no, sicuramente le uscite, ne dico due, l'uscita dopo appunto la partita, non mi ricordo se col Twente, ormai non ho più memoria, quella comunque vinta 1-0 contro gli olandesi, dove nonostante la vittoria andò davanti alle telecamere, e sbottò a suo modo dicendo, questa rosa va migliorata perché attualmente non è competitiva per la Serie A, questa penso non fosse una roba concordata con la dirigenza, perdonatemi, l'altro episodio che secondo me alla dirigenza non piacque, fu quando Tiago Motta, sempre l'estate scorsa sto parlando, andò davanti alle telecamere e disse praticamente che Barro non poteva far parte del suo gruppo, ora io sono d'accordissimo con lui, e come sempre ho detto, ave a Tiago Motta anche in virtù di questo, perché poi è stato uno dei tanti motivi per cui si è fatta la stagione che si è fatta, però io non penso che la dirigenza sia stata contenta di quell'uscita che abbia fatto capire comunque al mondo intero che Tiago Motta non vedeva Musabaro come un giocatore, anche perché in teoria in queste situazioni il cartellino non si depaupera, affermo restando che il cartellino di Musabaro si è depauperato ben dapprima e già da solo, quindi ripeto Tiago Motta ha fatto ultra bene, però da un punto di vista dirigenziale non penso sia piaciuta quell'uscita, ne dico un'altra, Tiago Motta vuole partire ai nasi di partenza, laddove appunto la situazione potesse permetterlo, e Bologna lo poteva permettere per tante motivazioni, in primis il Presidente che ha una certa facoltà, lui non voleva partire con l'obiettivo in realtà di salvezza, quale invece si era concordato che fosse, lui ha sogni ben più elevati, vorrebbe dalla dirigenza che questi sogni ben più elevati rispecchiassero anche loro animi, e quindi un po' il filone eventuale laddove oggi o domani questo incontro verrà fatto, sarà un po' qua, capire realisticamente il Bologna se vuole fare il livello ulteriore, perché Tiago Motta rimane se c'è un livello ulteriore, altrimenti se c'è un permanere non rimane, e io qua ho letto, poi non so se sia vero che Tiago, che è saputo, Gioiai Grazia è saputo, pronto un rilancio di 100 milioni da investire nei prossimi tre anni, quindi questo è maggiore potere per Tiago Motta sulle scelte di mercato, questa oltre ovviamente al contratto che sarà come minimo paritaria quello offerto dalla Juventus, questa dunque l'offerta che lascia trappelare l'ambiente, possa essere fatta nella stanza dei bottoni oggi o domani a Tiago Motta, staremo a vedere quello che Tiago Motta deciderà, fermo restando che io ho la sensazione che Tiago Motta abbia già deciso da tempo in realtà, e non l'abbia comunicato, perché ha capito che non si poteva rovinare una festa, e che era giusto che si festeggiasse, ma lui è un testardo e la vedo, come penso, io penso che lui in realtà sappia già dove vuole andare a parare, e penso che eventualmente fargli cambiare idea non sarà facile, perché lui è uno deciso, è uno testardo, è uno che comunque già quando partirono i Dominguez, gli Arnautovic, sappiamo qual è la sua filosofia, lui ha cercato ad esempio prendendo il Dominguez di convincerlo a rimanere, ma poi però ha sempre detto, se i ragazzi vogliono andare via è giusto lasciarli andare, e noi troveremo nuove opportunità, dunque ci ha dettato anche la linea riguardo, in tal senso, se Tiago Motta deciderà di non voler rimanere, noi dovremmo accettarlo, lo dovremmo capire, comprenderlo e ringraziarlo, ugualmente, io farò così, qualsiasi sia la sua decisione, io ringrazierò Tiago Motta, perché ci ha insegnato tanto e ci ha portato tanto, quindi non potrò che dire grazie a Tiago Motta, mai sputerò, ricordatevi, mai sputerò sul piatto Tiago Motta, perché Tiago Motta è un grande allenatore, e insomma, decida lui, faccia quello che reputi essere fatto per la sua carriera, ovviamente lui pensa, se noi siamo tifosi, come ha detto ieri, pensiamo per passione al nostro Bologna, e mi ha fatto molto riflettere, leggere molti i vostri commenti ieri, e avete ragione, poi ci sono momenti di sconforto, ma una cosa vera, il Bologna rimane, il Bologna comunque, per essere grande, e per fare un ulteriore step, deve anche saper sopperire eventualmente alla dipartita del suo allenatore, per far capire di essere più forte di qualsiasi singolo, perché noi se andiamo avanti per, cioè non possiamo essere forti per un singolo, ma noi dobbiamo essere forti d'ambiente, allora facciamo vedere eventualmente, io ripeto, spero che rimanga, ma eventualmente debba andare via, il Bologna faccia vedere di essere diventato forte, di saper fare le giuste decisioni, nella scelta del nuovo allenatore, che staremo a vedere, io ho una sensazione al riguardo, ma eventualmente ne parleremo in un secondo video, faccia vedere di continuare questa crescita, perché vorrebbe dire, avere la maturità necessaria, necessaria anche per affrontare appunto le difficoltà provenienti dagli step successivi, da questo punto di vista l'Atalanta, facendo un crossover, non si è mai scontrata con questo passo, forse si scontrerà anche lei quest'anno, perché ho letto, mi è sembrato di capire che specialmente se Gasperini dovesse vincere questa sera, contro il Leverkusen, potrebbe anche vagliare l'ipotesi di andarsene, e anche per l'Atalanta, secondo me sarebbe un momento di grossa maturità, capire il dopo Gasperini, come possa effettivamente essere con alla guida qualche di un altro, è lì che si capiranno e che si capiscono eventualmente molte cose, riguardo ad una società matura, che possa fare passi anche in autonomia, non dipendendo da nessuno, detto questo io continuo a pensare che Tiago Motta sia un vatte calcistico, che di Tiago Motta in giro ce ne siano pochi, che creano valore della rosa, che creano un valore tattico, che creano superiorità numerica, che creano punti in classifica, ce ne sono pochi, una volta che tu lo trovi dovresti fare di tutto per trattenerlo, come sono convinto che saputo farà, quindi da questa convinzione voglio stare tranquillo, se non rimarrà vorrà dire che non c'erano gli argomenti necessari ulteriori, ma che li abbiamo provate tutte, io sono convinto di questo, quindi da questo punto di vista voglio rimanere sereno, poi sai lì dipende, come ho detto noi siamo tifosi, lui è un professionista, non possiamo chiedere a lui amore per Bologna incondizionato, perché amore è anche capire, è anche voler cercare di comprendere lo stato d'animo che è attraversato appunto da questa città, quindi laddove Tiago Motta fosse animato d'amore, sicuramente farebbe anche una scelta contro i suoi interessi, ma non penso che Tiago Motta da professionista qual è, possa essere animato da questo profondo sentimento quale alberga noi tifosi, quindi insomma ci saranno fatte scelte su altri livelli, poi ne parleremo più approfonditamente, eventualmente il prossimo futuro debba essere di qualcun altro, su chi, adesso attendiamo, fa ditemi la vostra, box commenti, attivate il campanaccio pastorale, iscrizione e condivisione a Mercamand, mi piaccino, e noi ci sentiamo alle prossime, chiacchier da bara!